Si è tenuta nell'aula bunker del carcere di Messina Gazzi l'udienza preliminare per il procedimento legato all'operazione Gota 7. Al termine della loro requisitoria davanti al GUP Salvatore Mastroieni, il procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e il sostituto della DDA Fabrizio Monaco, che hanno sostenuto l'accusa, hanno chiesto 30 condanne per un totale di 271 anni di carcere a carico degli imputati. La richiesta di condanna più pesante riguarda Mariano Foti, Ottavio Embese e Carmeloti Indaro Scordino, per i quali è stata chiesta la pena a 14 anni di reclusione. Sono in tutto 30 giudizi abbreviati che saranno trattati a scaglioni nelle udienze fissate il 12, 19 e 25 febbraio. L'operazione Gota 7, ennesimo capitolo di una serie di operazioni che portano lo stesso nome, fu condotta nel gennaio 2018. Secondo gli inquirenti, la famiglia barcellonese stava cercando di ricompattarsi, soprattutto nel settore della racket delle estorsioni e anche attraverso nuove leve, colpendo diverse attività commerciali e imprenditoriali del comprensorio. Le indagini consentirono di ricostruire una trentina di episodi e portarono a una quarantina di arresti nel gennaio dello scorso anno. Trenta degli indagati si trovavano in stato di libertà. Tutte le pene richieste ieri dall'accusa sono state calcolate con la riduzione di un terzo prevista dalla legge, in quanto gli imputati hanno deciso di farsi giudicare già in questa fase, senza passare per il dibattimento.